... Terza parte della nostra rassegna, come vi dicevo poco prima della pausa, prima di passare alle notizie di stampo locale Siamo ancora sul sito dell'ANSA per un'altra questione che arriva dagli esteri, un altro episodio di orrore ISIS decapita un miliziano kurdo in Iraq, quindi non accennano a diminuire gli episodi di estrema violenza I jihadisti dello Stato Islamico hanno pubblicato stamattina un nuovo video in cui mostrano la decapitazione di un prigioniero kurdo a Mosul La seconda città irachena è in mano ai jihadisti dal maggio scorso, il filmato è stato pubblicato su Youtube E ricorda il recente video della decapitazione del giornalista americano James Foley Oltre 3 milioni di siriani sono fuggiti dalla guerra civile che scuote il loro paese e sono diventati profughi Un milione dei quali solo nel corso del 2013 e questo invece è anche l'annuncio da parte dell'ONU Un'ulteriore notizia di inaudita violenza ed orrore che arriva appunto dal Medio Oriente A questo punto noi lasciamo il web e le notizie di stampo nazionale e ci occupiamo di quelle a carattere locale Lo facciamo partendo dall'inserto del messaggero ostia litorale dove in apertura ritroviamo però anche qui purtroppo una notizia di cronaca Si torna sull'omicidio dei giorni scorsi e si parla adesso addirittura da Danina di un killer su commissione Un agguato dalle modalità mafiose per eliminare il dipendente dell'ama incensurato A parlare suo padre aveva una relazione con la donna di un detenuto e offre una taglia, una ricompensa Per chi riuscisse ad individuare i killer di suo figlio e appunto aveva una relazione sentimentale con la compagna di un uomo attualmente in carcere Per aver cercato di uccidere un poliziotto durante una rissa ai castelli romani C'è anche la pista passionale nell'omicidio di Pietro Pace, pista passionale che al momento sembra essere quella più accreditata Il netturbino ucciso barbaramente mercoledì sera da Nagnina ho visto una persona sparare da uno scooter Ha detto un testimone né droga né debiti, forse una vendetta per la relazione con una donna sposata Dice il padre Mario che offre un premio di 100 mila euro a chi collabora con le forze dell'ordine Si parla di killer su commissione quindi probabilmente neanche che risiedono nella nostra regione Chiamati appunto da fuori per svolgere questo lavoro se così possiamo definirlo Dei killer anche esperti data l'esattezza e la velocità con cui hanno compiuto il gesto Queste sono le varie ipotesi e i vari riscontri che si possono trovare leggendo anche gli ultimi aggiornamenti sul web E poi ancora appunto la Repubblica ha in un articolo sulla Capitale Ha menzionato questo ultimo periodo proprio come un periodo di sangue per Roma Dato l'alto elevato numero di delitti e di fatti di cronaca che stanno avvenendo in questi giorni Uno di questi è un ennesimo, uno ennesimo è avvenuto a Torre Angela Cinque coltellate un romeno è stato trovato morto in strada Massacrato a Torre Angela con cinque coltellate Ha inutilmente tentato di sfuggire agli aggressori nascondendosi su un furgone ma è morto E sempre in questo fine agosto di sangue si torna anche sul caso della decapitazione Alle Eur dietro l'omicidio e il delirio intorno ad una data Non era un giorno qualsiasi, domenica 24 agosto per Federico Leonelli L'assassino di Oksana ricorreva il secondo anniversario della morte della fidanzata Già in precedenza in data 24 di agosto Leonelli aveva avuto una reazione talmente forte Che aveva indotto le forze dell'ordine ad un trattamento sanitario obbligatorio E lasciamo la cronaca finalmente per notizie di altro carattere In azione nel centro si tratta di rom travestite da turiste che saccheggiano gli stranieri Fortunatamente individuati e debitamente controllate dalle forze di polizia Una nuova metodologia che è stata scoperta dai carabinieri Una sorta di travestimento per non dare nell'occhio Che poi di travestimento non si tratta Semplicemente una mise da turiste Scarpe da ginnastica, jeans e maglietta con il cappellino Cartine alla mano, mappe della città alla mano E addirittura a volte anche macchinette fotografiche al collo Per passare inosservate Così con un espediente magari chiedendo informazione ai veri turisti In visita nella capitale li distraevano riuscendo a sfilare dalle loro borse Gli effetti personali più di valore Tutto questo è stato però fortunatamente scoperto dalle forze dell'ordine Che sono debitamente intervenute A Roma sempre è grillo ad avanzare adesso delle richieste E chiede il circomassimo il comune paghi 100.000 euro le stime per l'affitto dell'area Per il primo evento dopo gli Stones Proprio come accaduto per lo storico gruppo Rock Adesso è grillo il leader del Movimento 5 Stelle A chiedere di poter avere la struttura Il sito storico come piazza per poter festeggiare E invece il comune chiede 100.000 euro E la cifra esatta si potrà avere soltanto quando il tavolo tecnico Composto da soprintendenze Campidoglio e Municipio Avrà esaminato la richiesta dettagliata del Movimento 5 Stelle Per l'utilizzo del circomassimo per le tre giornate di ottobre Non si tratta di un calcolo semplice Ma è immaginabile che il canone richiesto a Beppe Grillo e soci Non si discosterà troppo dai 100.000 euro Sarà insomma la prima applicazione pratica delle nuove tariffe Per i grandi eventi nelle piazze storiche della capitale Approvate dall'amministrazione comunale Con il bilancio del 2014 Una sterzata arrivata anche in seguito alle polemiche Per il concerto dei Rolling Stones Con ingresso a pagamento per il quale avevano sborsato Nemmeno 800.000 euro Ci spostiamo sul litorale Bloccato il canale dei pescatori ad Ostia È ostruito e gli operatori del settore ittico Sono in difficoltà Hanno dichiarato Non riusciamo a lavorare A Cerveter invece viene indagato il sindaco Alessio Pascucci È stato lui stesso ad annunciarlo Due agenti del corpo della forestale Mi hanno notificato l'iscrizione Insieme ad altre persone Nel registro degli indagati Nell'ambito dell'indagine riguardante l'isola ecologica Situata in via Settevene Palo Nuova Il sindaco ha spiegato che farà verifiche interne al comune Per chiarire il caso E quindi lui a dare l'annuncio Di quanto accaduto E lui stesso a dare anche l'annuncio Di indagini da parte sua All'interno dell'amministrazione A Roccacencia Cattivi odori Dalla TMB E scatta la protesta L'aria irrespirabile Siamo barriccati in casa da giorni Protestano i residenti Che abitano nella zona attorno a Roccacencia A due passi dall'impianto di trattamento Dei rifiuti indifferenziati dell'AMA Da villaggio Prenestino A Borghesiano Odori e fumi Si fanno sempre più intensi I tecnici AMA spiegano I fumi che derivano dal trattamento Della frazione organica Vengono lavati e filtrati Per evitare Qualsiasi fuoriuscita di ammoniaca A contatto con l'atmosfera Condensano Ecco il fumo bianco che si vede Nei giorni scorsi C'è stato un guasto Queste le delucidazioni Le spiegazioni che arrivano direttamente Dai tecnici AMA A Ponte Mazzini invece Una task force antidegrado Di vigili e AMA Operazione congiunta Per il decoro della città Una ventina di agenti Della stazione Pix 15 operatori dell'azienda Per l'igiene e l'ambiente Del Campidoglio Hanno effettuato Una serie di interventi Di bonifica E sgombero Un accampamento abusivo Sotto Ponte Mazzini È stato evacuato 9 le persone allontanate Che con i loro sette cani Si erano stabiliti Sulle sponde del Tevere Con tende e masserizie I senza fissa dimora Sono stati identificati E prima di allontanarsi Hanno rifiutato Ogni tipo di assistenza Offerto loro dagli agenti L'area è stata Immediatamente sanificata E sono stati raccolti Circa 9 metri cubi Di rifiuti Accumulati E numerosi Escrementi Animali Questo durante Questa operazione In task force Antidegrado Di vigili Di Roma Capitale Edama A Ponte Mazzini E nella zona circostante Con quest'altra notizia Dalla capitale Ci fermiamo Ancora un istante Ma poi La quarta parte Con tutte le altre notizie Dalla provincia Tra poco Di Roma Di Roma Ancora un istante Di Roma Di Roma Di Roma Di Roma Di Roma Grazie.